La caccia del pallone Campagnaro che ha vinto il ballottaggio con Cannavaro che è rientrante mentre spalificato con tiri, tocco verticale, palla verso Inzaghi, occasione Inzaghi! 1-0 Milan! Posizione regolare per Inzaghi. Posizione regolare secondo il guardaline per Pato, poi verifichiamo intanto Pato fino in fondo. 2-0 Milan! Super Milan! Tocco per Gargano ancora, abate chiude, vediamo chi arriva la Mepsi, il pocio, fai Gargano, ancora Gargano, Dida la deviazione, Dida ancora, Amsic! Prova a ripartire in Napoli, è arrivato anche il momento di cominciare a pezzare all'uomo, partì da Sky da una parte e dall'altra. Da Gargano messo giù dall'intervento di Abate che era già ammonito e allora arriva il doppio giallo. Occhio alla battuta da parte di Datolo, ci sono 5 saltatori del Napoli, la battuta dentro, Sederf ancora si coordina con sinistra! E trova un gol straordinario! Quale palla Datolo? Cigarini sceglie l'altro lato verso Amsic, palla dentro sul maggio, ancora maggio la pressione di Ambrosini. Occhio dentro, un piazzandale, non è visto! 2-2, 2-2, 2-2, 2-2! Arriva il fischio finale, finisce 2-2 al San Paolo, 2-2 con il gol di Denis, all'ultimo minuto, all'ultimo respiro. Grazie! Grazie!